E bella tu stiamo tornando in questo nuovissimo video per parlare della partita che è appena finita tra Benevento e tra Fiorentina e Benevento che ho guardato insomma della Coppa Italia perché comunque gli altri incontri avevo da fare quindi non li ho seguiti e ho visto che sono stati risultati clamorosi e che quando ho capito l'Empoli dovrebbe essere stato l'unica a vincere fuori casa e appunto come già avevo fatto il video se ricordate potete recuperarlo sul mio canale quello che fece ai 32esimi di Coppa Italia per il Benevento che andò col Pordenone addirittura e niente quindi ho ascoltato un attimo insomma quello che diceva l'italiano sta finendo in modo di parlare e comunque no diciamo che dopo che appunto il Benevento è riuscito a vincere col Pordenone mi pare 1-2 però non mi vorrei sbagliare o addirittura 2-3 non mi ricordo comunque adesso però dopo quella partita appunto che avevo portato il video ad agosto appunto e oggi che siamo andati a dicembre sono stati questi 16 rimini di finale che secondo me è stata la partita forse più importante insieme anche a era Empoli-Verona che appunto è stata l'altra partita insomma che diciamo tra le più equilibrate ecco perché poi finirà per esempio il Cagliari con la Ternana che addirittura il Cagliari vince 3-1 non dopo che sta facendo schifo in Serie A quindi e poi il Benevento diciamo che è appena sceso dalla Serie A ancora Glick ancora Glick e comunque la Padula e Insigne il fratello di Insigne che comunque sono giocatori fortissimi non ho capito sinceramente oggi perché ha fatto giocare Manfredini che da quello che ricordavo era tipo il terzo portiere però vabbè forse anche per far riposare l'altro portiere che si è venuto Paliari colui che gioca almeno quando pur sono andato a vedere la partita ha giocato Paliari e comunque sì alla fin fine il Benevento ha fatto un'ottima partita ha fatto più di quello che poteva fare mi dispiace che poi il gol è stato annullato però giustamente alla Padula che era anche lui in fuorigioco anche se lui credeva di non esserlo quindi diceva no no non sono in non sono in fuorigioco però in realtà era anche lui in fuorigioco e comunque sì alla fin fine Moncini ha fatto gol e la Padula era riuscita a fare gol ma gli hanno annullato Rosati poi chiaramente ogni volta che c'è ma pure con la Roma o quando c'è qualche squadra che mi piace il simpatizzo ogni volta c'è tipo un portiere diverso da quello che gioca normalmente questi portieri si esaltano diventano diventano i migliori portieri della della vita diciamo così no e comunque sì alla Fiorentina ha questi tre ottimi portieri è vero che Coccoli non ha fatto male secondo me e Teio malissimo del Benevento Teio malissimo e anche sì Teio malissimo devo essere sincero e poi anche 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 Moncini che ha fatto era lui sì che ha fatto il gol però stava anche praticamente in c'è se neva in linea Milenkovic purtroppo andava così e poi vabbè comunque alla fine cioè tranne Teio alla fine ha giocato hanno giocato abbastanza bene tutti comunque Rosati ha fatto pure una bella parata su come si chiama e su su Glick ecco non mi veniva il nome su Glick comunque poi il Benevento ha fatto giocare a vari giocatori insomma anche del 2001 di serio questi qui cioè comunque giocatori che alla fin fine sono giocatori e giocatori comunque che hanno meno esperienze insomma e che sono venuti quest'anno ecco perché ci sono cioè da quello che ho visto ci sono pochi dell'anno scorso e molti insomma cioè diversi nuovi quindi c'è un po' a metà diciamo è come se fossero metà dell'anno scorso metà nuove comunque sì anche Ionita poi è entrato Ionita non mi è piaciuto tanto però non ha fatto male come Teio e poi Fiorentina proprio che si è spenta perché ha giocato con ha giocato benissimo con e sì volevo dire ha giocato ha giocato benissimo con cioè fino al 2-0 poi dopo il 2-0 praticamente si è spenta e e poi ha giocato solo il Benevento quindi è quella c'è quella cosa che fa male perché è come cioè è come per esempio la Roma con il per esempio quando ha giocato il derby che per 70 minuti comunque l'ha giocato bene poi vabbè c'è stato anche l'episodio che probabilmente c'è il rigore lì su Zagnolo però non è stato dato comunque sì la Roma ha giocato benissimo per 65 minuti diciamo così mentre invece poi in quel caso la Lazio ha giocato bene per 25 minuti e questo è stato oggi cioè probabilmente la Fiorentina ha giocato ha giocato bene però è un po' diverso perché mentre poi cioè prima ha giocato solo una squadra poi ha giocato solo un'altra invece invece c'era il primo tempo che è stato praticamente cioè equilibrato con l'occasione da una parte e dall'altra e più che cioè secondo me dovranno stare 2 a 1 o 3 o 3 a 2 alla fine del primo tempo perché veramente tantissime occasioni e poi dopo nel secondo tempo fanno già i primi 10 minuti la Fiorentina si ingestisce e poi dopo solo Benevento ha fatto subito c'è il fatto che il Benevento è riuscito a fare subito dopo il secondo gol cioè subito dopo il gol subito ha fatto gol subito dopo il gol quindi ha fatto cioè dopo il gol il secondo gol subito è riuscito a fare gol Bigalli probabilmente ha giusto solo lei anche se poi la Fiorentina ha messo vari giocatori poi spero per Fulgar che non sia niente perché l'hanno toccato in modo che forse è fatto male al Tegna d'Achille quindi potrebbe stare fuori cinque mesi almeno speriamo per lui di no che sia meno grave e poi a parte di questo volevo vedere l'intervista a Caserta ma non gliel'hanno fatta e mi dispiace chiaramente che il Benevento sia uscito però penso che più di quello che ha fatto non poteva fare avrebbe solo dovuto avere un po' più di fortuna con la Padula che se la Padula non si fosse trovata in fuorigioco e appunto il gol sarebbe stato dato regolare e oltre a quello sì chiaramente chiaramente la differenza si è fatta sentire però il Benevento cioè perché non è che si vuole partire però mi vedo tutti i risultati i marcatori leggo qualcosa perché comunque diciamo che nella Serie B ti fu il Benevento ecco e sì quindi mi dispiace appunto per il Benevento però credo che comunque anche se fosse riuscito a passare sarebbe cioè avrebbe dovuto fare comunque un'impresa per arrivare agli ottavi e poi andare cioè ci sarebbe stato comunque molto molto difficile andare oltre gli ottavi quindi prende quasi impossibile per cui va bene così perché poi perché poi secondo me cioè secondo me la Coppa Italia come lo posso dire la Coppa Italia come appunto c'è altre competizioni comunque di questo tipo secondo me però è è diversa un po' cioè la Coppa Italia c'ha questa cosa che secondo me per le squadre piccole è un po' come tutte le coppe quando i fari preliminari queste robe qua secondo me sono troppi turni e ci sono squadre piccole che secondo me avrebbero molta difficoltà ad arrivare avanti infatti per esempio in Inghilterra si riesce di più perché perché comunque in Inghilterra ci sono più difese con la Broda e più attacchi centrocampi e attacchi forti quindi si è segnato tanti gol e quindi c'è più facilità e poi i giocatori sono più alla pari diciamo così mentre invece in Italia c'è un disripello grosso tranne tra Benevento e chiaramente Fiorentina comunque è stata una bella partita me la sono goduta e quindi niente fatemi sapere mi sono goduto la partita e fatemi sapere cosa ne pensate commentate iscrivetevi che mancano 6 iscritti e 170 dai andiamo grazie a tutti